Non un diario di viaggio, ma un passaggio emozionale attraverso il suo Brasile. È questa la lettura che l'autore Paolo Marchetti dà della mostra Saudade Moon, inaugurata sabato scorso nella Galleria degli Ammannati a Palazzo Ducale, nell'ambito del Fotolux Festival a Lucca. Marchetti, vincitore dell'Aica Photographer's Award dello scorso anno, ha prodotto dal 2009 al 2013 questo personalissimo reportage, cercando un linguaggio narrativo lontano dai soliti cliché, in grado di raccontare emozionalmente il Brasile non visto, quello lontano dai riflettori mediatici. 33 scatti in un bianco e nero forte dai contrasti netti caratterizzano il lavoro di Marchetti, profondamente emozionale e con fotocariche di atmosfere totalmente lontane, sia dalla visione patinata del paese, che da quella estremamente drammatica dell'assoluta povertà delle favelas. Visioni lunari, come dice il titolo stesso, che hanno portato l'autore alla riscoperta della sua concezione di cittadinanza e di appartenenza. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 14 dicembre.